Oggi proverò la pizza in Brasile, facciamo come mi fanno a servire, questo è il pack ragazzi, apriamo senza scartare tracce in unghia, non so perché, ah l'ho presa piccolina vedi, magia a me, questa è la dimensione, lo spudino, e l'ho presa da Domino's Pizza a Copacabana, ve devo dire, aspetta che non mi sembra malvagissimo eh, devo dire voto 3 su 10, però in realtà sono fiera di Domino's Pizza, bravi ragazzi, perché non ci hanno spiattellato tipo una cinquina in faccia e il pomodoro sopra, perché dovete sapere che qua solitamente non mettono la salsa di pomodoro, ma la pizza è in bianco e c'è spiattellano i pomodori sopra, e a volte pure i pezzi di mozzarella hanno fatto il brividino sulla pentacce, perché te è cortello perché se taglia la veffindus, assagliato se taglia la veffindus proprio, allora mozzarella non tanto fluffy qua eh, mozzarella qui fa le alieni, assaggiamo, paremmo sto a mangiare una big bubble, però se può fare insomma, secondo giusto per capire se mi hanno avvelenato o no, è successo, no dai, pure il sapore del condimento, ci sta, dai, bravi, un applauso e finimasti a voi, mo' mangio però, ciao